Balloon Fight, un gioco classico per il Nintendo Entertainment System. Il titolo originale di questo gioco è Baroon Fight. Balloon Fight è stato sviluppato dal team Nintendo Research & Development, uno dei più vecchi team di sviluppo Nintendo. La grafica del gioco è stata creata da Yoshio Sakamoto, uno dei game designers di Nintendo più famosi, lo stesso che nel 1986 ha disegnato gli sprites di Metroid e Kid Igarus. Balloon Fight è stato rilasciato nel 1985 in Giappone per il Famicom, il nome giapponese del NES, nel 1986 nel Nord America e nel 1987 in Europa. La meccanica del gioco è molto semplice e intuitiva, il giocatore controlla questo personaggio di cui non viene mai rivelato il nome e l'unico obiettivo del gioco è far scoppiare tutti i palloncini avversari fino a farli cadere in acqua. Talvolta una sorta di pesce gigante arangione esce anche dall'acqua e mangia o il giocatore, uccidendolo estendamente, oppure uno dei personaggi presenti sullo schermo. L'importante è però che essi abbiano almeno un palloncino soltanto e inoltre devono anche essere estorditi altrimenti non verranno mangiati. Altri hazard oltre il pesce possono essere ad esempio delle nuvole che emettono dei fulmini che fanno perdere dei palloncini ai giocatori. Nel corso del gioco ci sono anche dei livelli bonus dove non sono presenti né piattaforme su cui sostare né nemici da far cadere in acqua né hazards bensì quattro tubi grigi nello sfondo e dei palloncini che escono da questi quattro tubi grigi. Lo scopo di questi livelli bonus è di far esplodere tutti i palloncini in modo da finire il livello. Più se ne fanno scoppiare maggiore sarà il punteggio finale del livello bonus. I controlli del gioco sono molto semplici, si utilizzano i tasti direzionali per muovere il personaggio a destra a sinistra, il tasto B e A per volare. Il tasto A va premuto diverse volte mentre il tasto B è possibile tenerlo premuto per poter volare costantemente per lo schermo. Come la maggior parte del giochi in S il menu iniziale consente al giocatore di scegliere se giocare in singolo oppure insieme a un altro con un secondo controller. Inoltre è presente anche una seconda modalità di gioco chiamata Balloon Trip. Di questa modalità presenta soltanto il singolo giocatore e consiste in una sorta di unico livello che scorre da destra a sinistra in cui bisogna costantemente volare senza alcuna sosta, evitare tutte queste scintille e far scoppiare quanti più palogeni possibili. Ma non è sempre molto semplice, infatti a volte è possibile anche incastrarsi in questo livello. Ad esempio in casi come questo è impossibile occierne vivi, seriamente. non c'è una via d'uscita per questo livello. L'unico modo è morire scendandosi contro queste scintille. Questo livello non ha un finale vero e proprio, bisogna andare avanti finché non si muore scendandosi dalle scintille oppure cadendo in acqua. Una cosa interessante che ho sempre introdotto in questo gioco, sin da quando ero piccolo, è la vaga somiglianza del personaggio con quello di Roadrunner. Ovviamente è una coincidenza, non c'entra nulla, anche perchè Roadrunner è uscito nell'83 e è stato originariamente rilasciato per l'Apple 2, non per il Nintendo Entertainment System. Comunque sia, il personaggio è molto somigliante. Di Balloon Fight sono usciti successivamente anche alcuni spin-off, come ad esempio Balloon Kid per Game Boy e Tingle's Balloon Fight per Nintendo DS. A lancio della nuova console Nintendo Wii U è uscito come minigioco all'interno del Nintendo Land, sotto il nome di Balloon Trip Breeze. In conclusione posso dire che il gioco risulta molto bello, il gameplay è banale però molto divertente e per essere un gioco dell'85 ha una colonna sonora veramente bella per l'epoca. Inoltre è un gioco immancabile nella libreria di qualunque fanatico di giochi Nintendo ed è uno dei giochi molto più belli e longevi per il NES che io abbia mai giocato finora. Posso dire che mi sono divertito tantissimo nel giocare questo gioco sin da quando ero piccolo e continua ancora oggi a piacermi molto. Detto questo spero che la leggenda vi sia piaciuta e se avete delle domande chiedete. E noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti! Ciao!